e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora oggi parleremo nuovamente di ubisoft finalmente ubisoft ci ha mostrato il nuovo trailer di niente poco di meno che assassin's creed shadows noto come codename red la serie sposta la sua ambientazione nel giappone feudale dal trailer che state vedendo probabilmente avremo ben due protagonisti yasuke di origini africane assieme a nao è una ninja di sesso femminile quello che riusciamo a percepire dal trailer è un'atmosfera molto inedita infatti credo correggetemi si tratta del primo assassin's creed ambientato in giappone cioè in oriente in generale scusate tra l'altro ubisoft ha accontentato i fan che da anni chiedevano una ambientazione simile chiaramente non abbiamo visto ancora il gioco in azione magari vedremo qualcosa in più all'ubisoft forward di giugno ma stando ad alcune indiscrezioni ci troveremo davanti a un gioco davvero lungo e corposo lo sviluppo del gioco è stato affidato a ubisoft quebec il team dietro assassin's creed odyssey sicuramente l'ambientazione nel giappone del xVI secolo propone grandi spunti infatti è un periodo caratterizzato da tumultuose trasformazioni anche i due personaggi sono due figure ben distinte ma allo stesso tempo complementari una cosa interessante è che yasuke è basato su una figura storica reale ovvero fu uno dei primi uomini di origine africana in giappone mentre noe è come detto uno shinobi della provincia di iga un'area montuosa nuota nuota per la formazione degli assassini potrete acquistare il gioco in formato standard edition edizione gold edizione ultimate i prezzi sono in linea con quelli degli assassin's creed che sono usciti negli ultimi anni tra l'altro se siete appassionati di manga non potete perdervi assassin's creed destiny disponibile su amazon a soli 9 euro e 50 narra le avventure di lee lee unabile assassino che si muove tra intrighi politici e battaglie epiche per proteggere l'impero dalle ombre del caos lascio la parola a voi ragazzi fateci sapere che cosa ne pensate sono anni che onestamente non mi intriga un assassin's creed ma questa volta vi devo dire che sono molto curioso ed anche fiducioso rispetto al prodotto ti devo dire vi devo dire che così brutta la sigla alla fine non è sarebbe piaciuto sapere qualcosa in più magari riguardo al combat system magari qualche dettaglio in più sulla componente open world sempre se sarà open world ma deduco di sì speriamo si giochino bene questa nuova ambientazione perché raga è davvero affascinante detto questo il video finisce qui come al solito invito iscrivetevi al canale lasciate un bel like o dislike commentate condividete attivate la campanella dei notifichi non perdervi gli altri video supportare il canale vi ricordo estremo live anche su tik tok per sapere quando siamo live guardate le nostre storie instagram e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti aaa che bella pisciata che bella aaaaaaa che bella così via Grazie a tutti.